Il consigliere regionale della campagna, Gino Abate, è un fiume in piena sul tema della sanità. Prosegue la sua battaglia a difesa della qualità delle prestazioni sanitarie e del potenziamento delle strutture del territorio, a partire dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, che rischia seriamente di essere declassata al primo livello. La mia, detto ai microfoni di TV7, non è una battaglia personale, ma è una chiara difesa dei cittadini del Sannio. Si è rischiato un blocco delle attività dei medici del pronto soccorso, poi rientrato. Ascoltiamo cosa ha aggiunto nell'intervista rilasciata alla nostra emittente. C'era una lettera pronta di dimissione di tutti quanti i professionisti e gli infermieri, oltre che medici, del pronto soccorso. Poi verso le 10 è stata ripianata questa tentazione di amplificare questo problematico a livello ospedaliera. Però questo non significa, non si può parlare dell'ospedale civile. Ripeto, non è un problema mio personale, di Gino Abate, è un problema che deve appartenere a tutti quanti. Perché una buona sanità territoriale significa parte di tutelare del territorio, tutelare dell'ambiente, ma significa anche risparmio, perché se io curo bene ho meno problematiche di carattere sanitario. La battaglia su una sanità è importante. Va bene, questo lo dico anche al Presidente De Luca, il piano ospedale regionale va approvato. Bisogna vedere che fine fa l'ospedale di Sant'Agata, probabilmente verrà rimodulato. E' meglio che passi all'Asle piuttosto che all'ospedale di Benavente San Pietro per quanto riguarda la gestione. E allora la battaglia che facciamo sul territorio qual è? E' il colvito di dolore che noi raccogliamo a momento, giorno per giorno. Io faccio il medico di famiglia e le problematiche presenti sul territorio le vado a registrare. Non soltanto a mondo di vista sanitario, avremo un autunno non caldo, caldissimo, non come temperatura, caldissimo perché come problemi economici le famiglie imploderanno. Mi devi dire, un pensione di 600 euro con queste volette che arrivano d'acqua, luce e gas. Come faranno i mesi? Allora vogliamo pensare a queste persone e a questo gruppo di famiglie che praticamente stanno sopravviventi, sono sempre più ai margini di una società e con voce alta, anzi con voce bassa, piuttosto perché non hanno lo status per poter gridare, chiedono un aiuto. Spero che questa questione ad ottobre ci sarà un'esplosione di protesta. Il futuro secondo lei dell'azienda ospedale di San Pio? Il futuro va rimodulato, altrimenti verrà declassato a primo livello. Questo significa perdita a livello territoriale di un punto di riferimento. Quell'eccellenza che c'era stata con la Mussi oggi non ci sarà più e neanche domani. Certamente l'ultimo dirigente è stato praticamente quando di peggio si poteva vedere il territorio, ha completamente appiattito verso il basso le prestazioni professionali all'interno di San Pio. C'è una volontà secondo lei? Secondo me sì, c'è una volontà. Io non so se il killer è stato il manager precedente, contro cui abbiamo fatto anche delle vele, nel silenzio assoluto della stampa per amplificare perché questo disagio, perché questa manifestazione è così forte. nessuna formazione politica ha avuto l'intuizione di parlare, di mettersi al tavolino, di gridare fortemente ciò che vorremmo per il nostro territorio e per i nostri cittadini. È una battaglia forte, è una battaglia territoriale. Io credo che chi la dovrebbe indoppiutare, doveva essere quelle persone che si mettono contro tutte e tutte a tutela dei diritti dei cittadini. Con l'entusiasmante show dei ricchi e poveri è calato il sipario sulla 43esima edizione del Festival Benevento Città Spettacolo. In una stracolma piazza risorgimento, lo storico duo nato a Genova nel 67 con Franco e Marina, Angelo e Angela, hanno proposto tutte le hit del loro vasto repertorio, da Mamma Maria alla Prima Cosa, da Che Sarà a Sarà perché ti amo e tante altre ancora, brani cantati a squarciagola dai numerosissimi fans. Emozionante e divertente allo stesso tempo un bel siparietto con oltre una ventina di bambini di Benevento salite sul palco per cantare con Angelo e Angela la storica boulevard en sé, tra gli applausi dei genitori e dei supporters che hanno riempito in ogni angolo piazza risorgimento. Non è mancato infine l'abbraccio con il loro amico Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che ha voluto ricordare con piacere i loro piacevoli incontri in un periodo ed in un paese che viveva tempi migliori, all'insegna anche della spensieratezza legata alla gioventù. In vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano del 25 settembre, l'ufficio elettorale del Comune di Benevento ha provveduto a sorteggiare i nomi dei 300 scrutatori che costituiranno, insieme ai presidenti, la rete dei 78 seggi, dei quali sei speciali, compreso quello dedicato e dei genti affetti da Covid-19 presso la sede dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Se si candida Mastella con la moglie, i falsi moralisti sollevano un polverone, si candidano le mogli di Franceschini, Fratoianni, di Berlusconi e tutti sono muti. Nessuno eccepisce alcunché. Il dato vero è che io ho preso un impegno con la mia comunità di restare sindaco di Benevento. Così, in una nota, Clemente Mastella. Mia moglie Sandra, senatrice uscente, saprà farsi scegliere dimostrando ciò che ha fatto per il territorio. È singolare questo atteggiamento nei suoi confronti, è una cosa immorale mai vista nella storia repubblicana. Soli contro tutti, ma forti di essere radicati sul territorio perché noi ci siamo sempre. Chiedo ai cittadini di andare al voto per difendere i loro interessi. Noi ci siamo sempre stati e ci saremo sempre. Letta, peccato per il mancato campo largo, avremmo fermato il centrodestra al Senato. Si è rivelato un pessimo stratega, spero che lo manderanno a casa il giorno dopo le elezioni. Lo ha detto il segretario di Noi di Centro, Clemente Mastella, presentando i candidati alla Camera e al Senato della provincia di Benevento. Ho assistito al suo suicidio politico, rivelando un'incapacità strategica incredibile. Dal campo largo è arrivato a un campetto di periferia. Letta, aggiunto il leader di Noi di Centro, avrebbe potuto mettere dentro la coalizione anche i 5 Stelle, visto che ha inserito Fratoianni, che è sempre votato contro il governo, mentre ha negato l'ingresso ai 5 Stelle. Invece ha inserito Di Maio, che danno all'1%. Son ragazzi, ha concluso ironicamente Mastella. Le conseguenze di una crisi non sono mai uguali per tutti. Soffre di più chi già si trovava in una condizione di difficoltà e marginalità. Vale per le persone, vale per i territori. Occorre a loro organizzare una risposta che vada oltre la pur legittima recriminazione. Servono idee e proposte. Così Antonella Pepe, candidata alla Camera per la coalizione dei democratici e progressisti nel collegio uninominale di Benevento. Per questo va sostenuto e apprezzato il lavoro messo in campo nei giorni scorsi dai vescovi riunitisi a Benevento. Alla politica, prosegue l'esponente del PD, i vescovi chiedono di rompere schemi oramai sclerotizzati e di puntare sulla progettualità prospettica. Un invito che va colto da parte di tutti. Sono 1865 nuovi positivi al Covid in campagna nelle ultime 24 ore. Il dato diffuso dal bollettino quotidiano della Regione fa riferimento ai 12.024 test eseguiti. Tre sono le persone decedute, 13 posti letto di terapia intensiva occupati, in area medica invece i ricoveri sono 281. Sono in corso le procedure di prenotazione del calendario della Polizia di Stato 2023 che racconterà attraverso gli scatti fotografici l'attività delle poliziotte e dei poliziotti al servizio delle comunità. L'edizione del calendario è stata realizzata dai fotografi della Polizia di Stato valorizzando così lo spirito identitario con l'obiettivo di mettere in risalto i valori della legalità, della sicurezza e del rispetto per l'ambiente e la natura. Si terrà sabato alle ore 18 nel piazzale antistante la stazione centrale di Benevento una flash mob e un'assemblea di unione popolare sullo spopolamento tesa a confrontarsi insieme in un'assemblea pubblica aperta a chiunque voglia intervenire. Annuncio di lavoro Si cerca infermiera per studio medico part-time automunita e preferibilmente residenti a Benevento Per informazioni telefonare allo 0824 50558 di TV7 e Radio International Lasciare nome, cognome e numero telefonico e sarete contattate direttamente dallo studio medico PM Ufficio Via Meo Martini 37 Benevento L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente PM mette al tuo servizio una grande cartoleria dove puoi trovare tutti gli articoli per la scuola e l'ufficio oltre ad una vasta gamma di articoli da regalo PM Ufficio Unica sede Via Meo Martini 37 Benevento Il Benevento Calcio comunica ufficialmente la chiusura della campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023 Sono 7137 le tessere emesse questa la dichiarazione della presidente Oreste Vigorito Insieme è stato il claim che ha accompagnato la campagna abbonamenti e tutta la provincia sanita con a capo la città di Benevento che ha risposto presente Per questo motivo ha detto Vigorito voglio esprimere i sensi della mia gratitudine a quanti ci hanno confermato la loro fede ma anche a coloro che con fiducia non ci faranno mancare il proprio supporto come ho potuto constatare nelle ultime due gare casalinghe A fare fatto con la Salernitana l'attaccante nigeriano Simi classe 92 1,98 m con il grande fiuto del gol vestirà i colori giallorossi per la prossima stagione arriva la corte del presidente Vigorito con la formula del prestito con diritto di riscatto Venezia Benevento sarà diretta da Federico Dionisi dell'Aquila assistenti Prenna e Garzelli quarto ufficiale Sfira Alvar Prontera assistente Alvar Macchi gli uomini di mister Fabio Caserta si sono ritrovati presso l'antistadio Embriani per la prevista seduta di allenamento a porte aperte i giallorossi sotto un'abbondante pioggia che ha condizionato anche la presenza dei tifosi sugli spalti hanno svolto lavoro di attivazione motoria rondò esercizio ludico e costruzione con conclusioni per la prima volta si sono allenati con i nuovi compagni Kubica e Simi autore peraltro di un gol nel corso della partitella organizzata dal tecnico un mese di stop invece per il centrocampista Viviani che non ha preso parte all'allenamento a causa di una distrazione muscolare all'adduttore alla coscia sinistra non si è allenato l'esterno Letizia per una botta alla spalla sarà abile ed arruolato per la gara di sabato pomeriggio a Venezia il programma dei giallorossi prevede ancora una seduta mattutina a cui farà seguito a partire dalle 12.30 la conferenza stampa congiunta del tecnico Fabio Caserta e del direttore sportivo Pasquale Foggia Nella rush finale di Calciomercato il Benevento piazza gli ultimi colpi e ufficiale l'addio del difensore Federico Barba che si trasferisce al Pisa al suo posto arriva sempre dalla società nerazzurra il centrale difensivo Maxime Leverb classe 97 oltre ad 800 mila euro per il cartellino di Barba il giocatore francese dunque termina in anticipo la sua avventura alla Sampdoria ed ha deciso di interrompere il prestito con il Pisa per liberare un posto in lista operazione chiusa anche per il ritorno in giallorosso di Pasquale Schiattarella svincolato dal Parma per dare maggiore qualità al centrocampo del Benevento Nuova tappa per il tour di Sport 7 live estate sabato 3 settembre dopo il successo dei giallorossi di mister Fabio Caserta contro il Frosinone in occasione dell'importante gara Venezia-Benevento valida per la quarta giornata d'andata del campionato di Serie B TV7 a partire dalle 13.30 sarà ospite dello Sporting Club e il ristorante Acquamare di Vasto un set suggestivo di grande qualità strutturale inaugurato poco prima dell'estate che renderà ancora più avvincente il format dedicato al calcio condotto dal giornalista Alfredo Salzano divenuto itinerante con una formula apprezzata dai telespettatori e dai numerosi partner commerciali che hanno creduto in questo progetto di comunicazione dell'editore Mario Del Grosso il centro Sporting Club e il ristorante Acquamare di Vasto è caratterizzato da tre campi di tennis in terra rossa due campi di padel uno stadio di padel coperto ed un campo da padel per singolo nelle prossime settimane saranno ultimati i lavori di un ovale in erba circondato da pista di atletica con annessi spogliatoi ma le sorprese non finiscono qui il salotto balneare di TV7 riserverà come sempre un accesso diretto ai canali di comunicazione per garantire ai telespettatori e agli internauti la loro presenza in diretta televisiva e social appuntamento dunque a sabato 3 settembre a partire dalle 13.30 dal complesso turistico Sporting Club e al ristorante Acquamare di Vasto in diretta sui canali di TV7 per seguire il commento della gara Venezia Benevento TV7 da sempre al fianco dei colori giallorossi e della corretta informazione dal 1983 PM Ufficio via Meo Martini 37 Benevento l'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente PM mette al tuo servizio una grande cartoleria dove puoi trovare tutti gli articoli per la scuola e l'ufficio oltre ad una vasta gamma di articoli da regalo PM Ufficio unica sede via Meo Martini 37 Benevento è tutto con questa notizia vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone